...è presente, è in aria assente, Corvianon Gianmarco al momento è assente, Della Luzio Patrizia è presente, Florea Alessandro è presente, Francesco Nessivano è presente, Gironazzo Luigi è presente, Goi Stefano è presente, Gradini Luciano è presente, Mascarin Gastone è presente, Mazzon Renzo al momento è assente, Moretto Sara è presente, Morlino Massimo è presente, Moro Cristian al momento è assente, Passiana Maria è presente, Rambuschi Pietro è presente... No, no, Rambuschi, Rambuschi Pietro, si si è presente, Rodrigo Ziricardo è assente, Stefanello Lena è presente, Terrida Laura è presente e Zanin Roberto è presente, c'è il numero legale? Il numero legale c'è e si può dar forza alla voi. Consigliere Mascarin? Sì, grazie signora, a nome di tutta la minoranza noi ci assentiamo e quindi facciamo mancare il numero legale, grazie, anche perché, ripeto, ribadisco, spetta alla maggioranza, lei prima ha cercato, mi permetta, di giustificare, però io voglio ricordare che sia il consigliere Gironazzo che il consigliere Collenò provenivano da Venezia oggi, sono usciti a Sanonà e quindi l'incidente è successo diverse ore fa, quindi anche questo è un tentativo, la maggioranza ha l'obbligo di far valere il numero legale, grazie, arrivederci. Grazie consigliere Mascarin, consigliere Moretto. Sì, giusto che ci sono stati dei commenti su queste comunicazioni, volevo rispondere al consigliere Mascarin che il dovere di amministrare la città e di garantire il buon funzionamento di un consiglio comunale sta a tutti i consiglieri comunali e non solo la maggioranza. Consigliere, consigliere Moretto, per cortesia. Beh, insomma, ognuno ogni volta dà dimostrazione della sua civiltà. Come dicevo, il dovere di governare una città e di garantire il buon funzionamento di un consiglio comunale spetta a tutti i consiglieri comunali. Ovviamente la maggioranza in questo caso non ha il numero, non ci nascondiamo dietro a delle scuse, però ritengo che abbandonare l'aula pur sapendo che un consigliere è in arrivo sia comunque un gesto poco responsabile. Grazie. Grazie, consigliera Moretto. Devo quindi constatare che il numero legale manca e quindi bisogna prendere atto che la seduta e l'adunanza va deserta. Verrà riconvocato un nuovo consiglio comunale. Grazie. Grazie.